Intanto complimenti a Resino e ai suoi abitanti per la bella iniziativa che sono riusciti a cogliere, un'iniziativa che si apre al mondo e non è casuale che oggi ci troviamo proprio nel campus del Politecnico del CNR, all'ECO, dove una parte di questa esperienza si sta realizzando con la presenza di molti studenti di ogni parte del mondo che frequentano questa università insieme agli studenti italiani. La ricerca che qui si fa è un altro tassello importante che lega due grandi strutture come il Politecnico di Milano e il CNR, Centro di Ricerca Nazionale e credo che questo sia anche un sintomo di una voglia di stare insieme, di creare sinergie, di fare in modo che tutti i risultati possano esaltarsi con la combinazione dei saperi che da ogni parte proveggono. Quindi a Resino e alla vostra iniziativa i migliori auguri e la sicurezza che il risultato sarà ottimo.